Buonasera a tutti, buon 2023 a tutti. Buonasera a tutti, prima puntata del 2023, diciottesima puntata di Aspasso tra le nuvole, purtroppo con una novità negativa perché il mio compagno di passeggiate tra le nuvole, Rino Satti, non è con me, purtroppo intrappolato dai malanni di stagione, quindi un salutone a Rino e martedì prossimo ti voglio di nuovo qua, mi raccomando, però cercherò di tenervi compagnia da solo in questa passeggiata tra le nuvole, insieme a Pietro Baldassare di Regia che sicuramente mi darà un grande supporto tecnico e noi iniziamo un po' a parlare di questo 2023, soprattutto cerchiamo di capire che cosa potrà accadere in futuro. Ultimamente tantissima gente mi ha fermato, mi continua a fermare dicendo quando fa la neve, quando arriva l'inverno, tanti altri sono preoccupati perché vista questa situazione così, temono che l'inverno possa essere poi casomai brutto e allungato verso marzo, aprile, in realtà la realtà dei fatti è che una sola, le previsioni del tempo sono valide solo a 5, 6, 7 giorni, oltre non si può andare, quando va bene si può fare una prospettiva a 15 giorni, quindi l'unica cosa che vi posso dire è che la situazione è ancora abbastanza bloccata, come vedremo poi nelle previsioni, ma ci sono delle prospettive già da domenica prossima per qualcosa di diverso, ma io volevo iniziare questa puntata parlandovi di un altro aspetto. La settimana scorsa chi ha seguito la puntata abbiamo parlato della nina, degli effetti che purtroppo sta determinando su questo mancato inverno in Europa, in Mediterraneo e anche di un'anomalia delle temperature oceaniche, adesso parliamo del terzo personaggio che in qualche modo incide molto sugli inverni europei e soprattutto mediterranei e cioè il vortice polare. Vi faccio vedere questa immagine, partiamo proprio da questa, per far vedere che cos'è il vortice polare. Quell'immagine che state vedendo è l'immagine di tutto l'emisfero nord e questo immenso ciclone che praticamente raccoglie buona parte dell'emisfero nord si muove in modo vorticoso e velocissimo dove vedete ad esempio quella colorazione fucca, siamo oltre 200 km orari, è praticamente un ciclone che in stratosfera, è un'immagine a 30 km di altezza, anche da noi dove c'è quel pallino verde in basso e l'Italia, siamo sotto questo vortice quindi in questo momento per capirci a 30 km orari soffiano venti a 180, 200 km orari. È una fotografia a 30 km che però ci dà bene l'idea di che cos'è questo vortice, quindi un super ciclone che risucchia in sé praticamente tutto il freddo e quando è così forte rende faticosa la possibilità di sviluppare un inverno più, come si può dire, freddo, dinamico. Ovviamente il vortice polare, possiamo passare all'immagine successiva, va visto come una colonna d'aria, quindi da 0 km a 50 km. La mappa che vedremo fra qualche istante ci permette in qualche modo di monitorare il comportamento del vortice polare da 0, cioè la linea bassa, a 50 km in alto. Che cosa si può vedere? Questo è l'ultimo trimestre, quindi ottobre, novembre e dicembre. Molto sinteticamente la colorazione azzurra indica un vortice polare molto forte e la colorazione rossa-arancio invece un vortice polare debole. Siccome la nostra atmosfera si può dividere in questa parte in due settori, la troposfera che è l'ultima parte in basso e la stratosfera, quello che balza agli occhi è che abbiamo avuto un comportamento del vortice polare molto forte sin da ottobre, in modo quasi costante, per tutti e tre i mesi, mentre invece in troposfera c'è stato un dinamismo molto più evidente, soprattutto nella seconda parte del trimestre, cioè da metà novembre e praticamente come potete osservare, anzi andiamo a vedere la mappa successiva che sintetizza anche questo scontro tra troposfera e stratosfera. Vedete la stratosfera in alto, le frecce che scendono in giù, che indicano appunto un vortice polare molto forte in stratosfera e invece le frecce che dal basso vanno verso l'alto che indicano un vortice polare troposferico, cioè negli ultimi 10 km praticamente di superficie, molto più deboli. Ebbene, se andiamo a concentrarci sulla parte finale del grafico, all'intorno, vicino a quella pallina dove ho indicato i 10 ectopascali che sarebbe la rappresentazione che abbiamo visto all'inizio del programma, potete osservare che la colonna d'aria è diventata di colpo quasi tutta azzurra, a indicare che cosa? Che un vortice polare che in tutta la colonna d'aria da 0 km a 50 è diventato forte o molto forte e non a caso infatti esattamente dal 19 di dicembre siamo entrati in questo stallo atmosferico che ha penalizzato in modo particolare il Mediterraneo dove sono subentrati anticicloni di matrice nordafricana, diciamo subtropicali, che hanno reso l'atmosfera decisamente calda, mite e quindi uno stallo assoluto. Vediamo invece in prospettiva che cosa accadrà più in là, perché questo grafico è sempre quello del vortice polare, la colonna d'aria è sempre la stessa, la linea tratteggiata è dove ci troviamo praticamente a oggi, a ieri, mentre la parte finale ci dice che cosa potrebbe accadere. Qui tutti gli interessi meteo, soprattutto nel mondo della meteorologia, è concentrata appunto sul comportamento in stratosfera, perché come potete osservare da quella linea gialla e dalle frecce sembrerebbe che da metà mese, quindi a metà gennaio, la stratosfera possa subire uno stratuom, quindi un riscaldamento, un indebolimento di conseguenza molto forte che potrebbe andarsi ad accoppiare ad una troposfera già abbastanza debole e se ciò avvenisse, ovviamente siamo nel mondo del se e del ma, non è certezza, ma se tutto ciò avvenisse potrebbe verificarsi anche un ribaltone dell'inverno, quindi passare da un inverno quasi, possiamo dire, anomalo, inesistente, ad un inverno di tutt'altra natura. Vi faccio, e concludiamo questa parte, chiamiamola didattica, con due mappe relative al 2018, perché in qualche modo il comportamento di quest'anno, di questa parte finale del 2022, è paragonabile al 2018. Il 2018 inizialmente, come vedete, la parte di sinistra dove è indicato una freccia azzurra in alto e una freccia rossa in basso, indica che cosa? Un vortice polare che era anch'esso forte in stratosfera e poi invece era debole in troposfera e tutto ciò fino a tutto gennaio. Poi da febbraio avvenne un super stratwarming con quella colorazione così forte, rossa, intensa, sia in stratosfera che poi anche supportata in troposfera e l'effetto più evidente di questa situazione l'abbiamo vissuta anche noi nel febbraio del 2026. La mappa successiva ci dà la traduzione di quello che avvenne quel 26 febbraio 2018, eccolo qui, con l'anticiclone che addirittura andò a puntare verso la Siberia asiatica e da noi arrivò un evento di Burian. Non ce lo ricordiamo sotto forma di nevicate clamorose perché la neve non arrivò fino a noi, ma se vi ricordate bene in quel famoso 2018, in quel fine febbraio 2018, toccammo temperature veramente gelite, meno 10, meno 12, meno 15 di notte e tant'è, ricordo benissimo, che tantissime piante furono completamente ghiacciate anche perché ormai la stagione era partita e di conseguenza fu veramente molto molto dannoso per la campagna. Quindi per dirvi che una combinazione è strato troppo di quel tipo potrebbe poi trasformare il nostro inverno in qualcosa di diverso. Dobbiamo aspettare di avere maggiori certezze e vedere quali effetti potrebbe produrre, però l'inverno, ecco, chi dice l'inverno non c'è, quest'anno è finito, i conti si fanno sempre alla fine perché in meteorologia non si può andare oltre, quindi questo è un fattore importante da tenere in considerazione perché può succedere tutto da un momento all'altro. E dopo questa parte un po' didattica possiamo iniziare con le previsioni vere e proprie e io come di consueto mi andrò ad alzare, andiamo ad analizzare le mappe da qui fino a domenica, lunedì. Ecco, siamo in questa situazione ancora bloccata, potete vedere bene, guardate qui, l'anticiclone, anzi due anticicloni che si stanno dominando la scena di tutta la parte meridionale, centrale, direi dell'Europa continentale e che quindi ci fanno vivere questa fase di stallo, continuerà a farlo anche domani. Le perturbazioni, ecco, un primo ciclone, Axel che sta per arrivare dall'Islanda, che arriverà dall'Islanda e un altro Magdalene che ci, diciamo, che è stato protagonista soprattutto in Scandinavia dei giorni scorsi, continuano a viaggiare alle alte latitudini. Quindi la situazione è pressoché di stallo assoluto in tutta l'Europa continentale. Se andiamo a vedere la mappa successiva, vedremo che appunto questa situazione di stallo che cosa comporta? Comporta temperature che continuano a rimanere piuttosto miti. Nella parte sinistra, questa che state vedendo, sono le temperature di domani alle ore 13 con valori che rispetto ai giorni scorsi stanno scendendo un pochettino, vedete le massime 12-13 gradi nelle zone collinari, del Terramano, Pescherese e Chietino, 8-9-10 gradi nella parte aquilana, ma il tutto perché, se ci avete fatto caso, la nebbia, la foschia che è dominatrice delle notti e anche del primo mattino rende, diciamo, l'aria piuttosto, mantiene l'aria piuttosto fresca, quindi poi quelle poche ore di sole che arrivano verso le ore centrali, dalle 11, le mezzogiorno e così, non riescono a scaldare più di tanto, le temperature si mantengono tra virgolette non eccessivamente caldo. Durante la notte la situazione cambia completamente anche grazie alle nebbie, temperature che nelle zone collinari, come potete vedere, si mantengono piuttosto miti, ma con tassi di umidità altissimi, nebbia veramente fitta, mentre invece nelle zone aquilane le temperature sono più rigide, anche se non estremamente rigide come è di prassi in quelle aree. Andiamo a vedere, proprio parlando di nebbia, di una immagine delle ore 8 di domani sera per dare l'idea di che cosa appunto questo stallo atmosferico sta determinando. La mappa, il colore giallo appunto indicano nebbie o foschie e potete osservare bene come l'Italia, buona parte dell'Italia, dalla sera viene in qualche modo intrappolata dentro queste nebbie, queste foschie e anche in Abruzzo non mancano, infatti la mappa questa di destra ci fa vedere bene che avremo ancora nebbie soprattutto nelle conche aquilane, ma non mancheranno anche nelle zone costiere e c'è la possibilità che possano appunto riuscire a penetrare anche nelle zone più interne dell'entroterra, quindi nel caso del Terramano, Teramo, Montorio e così via. Questo è il quadro per quanto riguarda mercoledì. Andiamo a vedere che cosa accadrà nella giornata di giovedì con una barica che in pratica non ci fa vedere nulla di nuovo se vogliamo, con l'anticiclone che va a dominare sempre la scena in tutto il comparto mediterraneo, nella Spagna, la Francia, buona parte dell'Europa, l'unica novità è rappresentata da questa perturbazione che inizia lentamente ad avanzare, non avrà effetti sul Mediterraneo, ma inizierà diciamo in qualche modo a scalfire il dominio anticiclonico e lo vedremo nei giorni successivi. Andiamo a vedere la mappa sempre delle temperature per farvi capire e comprendere che la situazione non cambierà di molto, questa è la temperatura della notte con le temperature che nella notte rimarranno sempre piuttosto rigide, vicine allo zero nel comparto dell'Aquilano e invece temperature un po' più miti dalla parte dei settori collinari. Andiamo avanti con la mappa successiva e siamo alla barica di venerdì, venerdì 6 gennaio, come potete osservare la situazione, siamo quindi al giorno della Befana, la situazione non cambia di tantissimo, vedete bene che l'anticiclone continua a essere dominante assoluto in tutto il Mediterraneo, le B che quindi indicano i vari cicloni, le varie perturbazioni che si susseguono sempre, continuano a viaggiare alle alte latitudini, arrivano al massimo verso l'Inghilterra, la Scandinavia, la Russia europea, ma tutto il resto dell'Europa è praticamente assolutamente fuori dai giochi di qualsiasi tipo, quindi perturbazioni alte, anticicloni che continuano a essere invadenti in tutta la zona mediterranea e questo non può che comportare che cosa? Un tempo che così come domani, così come giovedì, così come venerdì sarà caratterizzato anche da noi, anche in Abruzzo, da tempo piuttosto soleggiato al mattino, anche con nuvolosità irregolare, delle velature, comunque nebbie che faranno fatica soprattutto sulle zone costiere, nelle conche aquilane ad andar via se non nelle ore centrali di giornata, quindi un tempo che continuerà in questo schema di staticità, di calma assoluta. Vediamo le temperature del venerdì con i valori che continuano ad essere sullo stesso standard, 13-14 gradi nelle zone collinari, 8-9-10 gradi nelle zone qui dell'Aquilano, della Marsica e dell'Alto Sangro e situazione pressoché identica, similare per quanto riguarda le minime e siamo a sabato alle ore 5 con valori sempre piuttosto frescolini ma non estremamente bassi. In poche parole la possibilità di avere gelate soprattutto nelle zone collinari continua ad essere un fatto assolutamente impossibile e difficile che si vada a maturare. E con questo abbiamo chiuso un po' il quadro delle previsioni fino a venerdì e come di consueto, come eravamo abituati a fare sempre con Rino, c'è la copertina del sabato che ci introduce alle previsioni del weekend associato ad una musichetta che per quest'oggi sarà una musica di un cantautore italiano famosissimo. Sale la nebbia sui prati bianchi come un cipresso nei camposanti. Ecco, Fabrizio De Andrè con questa canzone Inverno ed è molto significativo questa indicazione della nebbia, questo esorcio del testo con Sale la nebbia perché direi che proprio l'inverno se lo vogliamo chiamare tale per il momento si può associare soltanto a mitezza di giorno e nebbie notturne che stanno praticamente, si stanno verificando e manifestando un po' in tutta l'Italia. Quindi questa musica, una canzone del 1968 direi calzante alla situazione attuale. Andiamo e torniamoci, ci rituffiamo di nuovo nelle previsioni del tempo, previsioni del tempo che iniziano a dare dei segnali di cambiamento. Ecco questa è la mappa di sabato 7 gennaio alle ore 13 con l'anticiclone che ancora continua a resistere sulle nostre lande, il Mediterraneo, anche in Spagna, ma è importante questa novità che sarà poi ancora più evidente nella giornata di domenica con questo ciclone diciamo molto profondo tra l'altro che dovrebbe giungere soprattutto nella zona tra l'Islanda e l'Inghilterra ma che riuscirà con la sua rotazione antioraria a provocare la formazione di un fronte perturbato, le frecce gialle ci indicano più o meno quale sarà la traiettoria che andrà a determinarsi, ma le frecce rosse che vedete in basso invece ci indicano come l'anticiclone inizia la sua ritirata dopo questa veramente resistenza enorme per parecchi giorni. Quindi sabato in poche parole potremmo vivere una giornata, l'ultima giornata veramente anticiclonica con il dominio anticiclonico anche se al nord soprattutto nella seconda parte di giornata potrebbero essere già i primi segnali del cambiamento e quindi potremmo definire quasi al 90% se non al 100% sabato l'ultimo giorno di questo stallo e da domenica dovrebbe la situazione cambiare radicalmente o perlomeno diventare molto più dinamica. Andiamo a vedere la mappa successiva, la mappa relativa credo ancora alle temperature per farvi capire che la situazione non è cambiata di nulla rispetto ai giorni precedenti, abbiamo le solite temperature collinari 12, 13, 14 gradi, poi le temperature un po' più basse nell'Aquilano ma pur sempre abbastanza alte e per quanto riguarda invece la notte, la domenica ore 5 quindi prima dell'alba, temperature che si avvicinano allo zero nel settore Aquilano, addirittura potremmo avere qualche sotto zero tra la Val di Sangro, insomma le zone diciamo di bassa montagna, nelle zone collinari invece le temperature continuano a essere miti. Sabato potrebbe essere anche la giornata in cui dopo due giorni, quelli di giovedì e venerdì in cui la nebbia pur essendoci sarà un po' più, meno presente, meno assillante, soprattutto nelle zone collinari dove dovrebbe giungere, si manterrà sulle conche aquilane e sulle coste abruzzesi, mentre invece sabato tornerà ad essere piuttosto fitta. Vediamo infatti l'immagine successiva, credo appunto sia relativa alla nebbia, eccola qui, guardate la mappa dell'Italia alle ore 22 di sabato, di sabato sera, sabato 7 gennaio e potete osservare benissimo che il Gallo sia praticamente dominatore assoluto della scena in tutta l'Italia, da nord a sud, anche in Sicilia. L'unica cosa è questa presenza di verde che dovrebbero rappresentare le prime precipitazioni, le prime deboli precipitazioni appunto nel nord-ovest, nella costa in Toscana, a indicare questo cambiamento che dovremmo appunto vedere in modo più significativo nella giornata di domenica. Per quanto riguarda noi, situazione, guardate, della nebbia, sempre la stessa, conche Aquilane, Avezzano, l'Aquila e tutta la costa, ma anche molto più dentro, quindi verso le zone collinari, ancora alle prese con la nebbia. Questo per quanto riguarda sabato 7 gennaio. Ci tuffiamo quindi a questo punto con la previsione di domenica, che non è solo l'ultima previsione, l'ultima mappa, ma è anche appunto diciamo fondamentale a questo punto direi per il cambio di circolazione significativa. La famosa B, quindi la famosa attività ciclonica in zona islandese della Gran Bretagna, continua ad avanzare e che con la sua parte più meridionale, scusate, avanza verso l'Italia. Ecco che l'anticiclone è costretto a ritirarsi verso l'Africa e quindi per quanto riguarda tutto il Mediterraneo, per quanto riguarda l'Italia, si aprono di nuovo dopo esattamente praticamente 20 giorni, tornano, dovrebbero tornare le piogge, sicuramente nella zona del nord, del nord-ovest, a noi ci sarà sempre il fattore appennino che potrebbe un pochettino frenare, inteso come settori adriatici, che potrebbe in qualche modo frenare l'avanzata delle piogge, ma nel complesso le previsioni almeno ad oggi indicano la possibilità di precipitazioni che dovrebbero manifestarsi anche nei settori orientali. E infatti andiamo a vedere, ed è la prima e l'ultima mappa delle piogge, perché non l'ho mai messa non essendoci possibilità di piogge, vi faccio vedere due mappe, esattamente quella di domenica, cioè la stima di precipitazioni nella giornata di domenica 8 e la stima di precipitazioni invece nella parte successiva di lunedì, perché nella giornata di domenica la perturbazione avanzerà da nord-ovest, anzi, quindi dalla Francia se vogliamo scenderà verso l'Italia e quindi noi potremmo anche vivere una giornata, noi sempre settori orientali, come potete osservare. Pietro, se puoi allargare un attimino la mappa così riusciamo a vederla anche un pochettino meglio a schermo pieno, si può osservare come la colorazione bianca sia proprio su tutti i settori adriatici, dall'Emilia Romagna fino alla Puglia, la Basilicata, asciutto. Questo è indicare che la perturbazione giungerà da nord-ovest, porterà precipitazioni anche significative al nord-ovest, in Toscana, nel Lazio, nel nord-est, mentre invece da noi bisognerà probabilmente attendere la giornata di lunedì, come vedete la colorazione si fa addirittura a color rosso fucisa, quindi in questo caso il modello europeo indica anche precipitazioni significative. Su questo, diciamo, ho ancora dei dubbi perché, ripeto, l'Appennino potrebbe fare da schermo e quindi smorzare un po' l'avanzata della perturbazione, ma certamente la novità è rappresentata proprio dal fatto che dopo 20 giorni di mitezza, dopo 20 giorni soprattutto di siccità, dovrebbe tornare la pioggia e di conseguenza anche dovrebbero tornare le nevicate anche in media montagna, 1.600-1.700 metri, ma sulle quote poi vedremo nei giorni successivi se il tutto verrà confermato. Credo che sia l'ultima, se non la penultima mappa, forse c'è quella delle temperature, eccola qui. Ecco, la giornata di domenica, come vedete, le temperature, soprattutto nelle zone collinari, salgono di qualche grado semplicemente perché la perturbazione probabilmente sarà anticipata da venti che potrebbero essere di occidentali o di libeccio e quindi ci potrebbe essere anche un innalzamento momentaneo delle temperature prima dell'arrivo del fronte vero e proprio e quindi delle piogge. E con questo la parte delle previsioni si conclude quasi, io mi vado a sedere, vi faccio vedere soltanto gli spaghi meteo per farvi capire come la situazione da qui fino a a metà mese all'incirca rimarrà piuttosto di stallo. Ho indicato quella frase, clima di stampo tardotunnale, perché come potete osservare le curve si muovono quasi sistematicamente sopra la curva rossa che rappresenterebbe la media del periodo e di conseguenza il clima da un punto di vista delle temperature rimarrà ancora piuttosto tardotunnale. Mentre invece la novità è rappresentata dalla parte sotto, si può osservare che se fino al 7, l'8 come abbiamo visto ci saranno sole, nuvole, nebbie, dal 9 in poi potremmo almeno vivere una stagione, una fase molto più dinamica con fasi piovose che si intervalleranno ad altre meno piovose. Questo è il quadro complessivo. Concludiamo la nostra puntata di oggi con due belle fotografie che sono state, diciamo, immortalate, che hanno immortalato momenti particolari e belli nel mese di dicembre. In questo caso nella prima metà di dicembre, esattamente dell'8 dicembre, anche se in Italia non ci fu una grande ondata di freddo, c'era invece gran freddo soprattutto nell'Europa centrale. Questa foto è stata scattata appunto in Germania, catturati aloni di ghiaccio a Surland, Germania, ed è una foto veramente bellissima. C'era stata tanta neve in Germania e quegli aloni non sono altro che una nebbia ghiacciata, quindi una situazione molto particolare e difficile, ma sicuramente la fotografia è di grande grande effetto, diciamo, scenico, proprio perché è riuscita a catturare questi aloni così spettacolari. Così come è spettacolare, vi faccio vedere l'altra foto, quello che è accaduto è esattamente la vigilia di Natale a Roma, con questo stupendo tramonto che è stato colto praticamente dal raccordo anulare, se non sbaglio, con una colorazione intensa tra il rosso e l'arancio, che veramente ha reso la vigilia di Natale, che come buona parte d'Italia era stata mite, calda, anomala, se vogliamo, da un punto di vista atmosferico, ma ha reso questo tramonto davvero stupefacente, spettacolare. Concludiamo la puntata con il proverbio, non poteva mancare il proverbio, e questa volta andiamo nella Valle Peligna, dove viene detto questo proverbio, a indicare appunto che gennaio senza la neve, gennaio senza freddo è sicuramente non un bel segnale per la campagna, per le coltivazioni e così via, e quindi la speranza che avevano anche i nostri, diciamo, avi, i nostri coltivatori, era quello di un inverno che dovrebbe fare l'inverno, un inverno che dovrebbe fare freddo, in cui dovrebbe far freddo, dovrebbe nevicare, ma non per il gusto e per il piacere della neve, semplicemente per poter avere poi prospettive positive per la coltivazione, per la campagna in primavera, e aggiungo io, senza le riserve idriche dell'inverno, l'estate potrebbe essere veramente, diventare molto molto pericolosa, quindi anche se posso essere di parte, anche se molti amano il sole, l'amitezza eccetera, spero che l'inverno, almeno fra non molto, possa tornare a fare, a ruggire, ad essere veramente inverno. Con questo vi saluto, una buona serata a tutti e a Rino una buona guarigione, a martedì prossimo, ciao!